No al calcetto, sia alle partite dilettantistiche, è un numero minimo di spettatori negli stadi e nei palazzetti. Il nuovo DPCM riscrive le regole dello sport legate all'emergenza sanitaria, vieta tutte le gare, competizioni e attività connesse agli sport di contatto aventi carattere onatoriale. Insomma, per sbagarsi si potrà giocare a tennis o a padel, non a calcio, calcetto, calciotto, basket e palla a volo, ma riapre gli stadi almeno in parte. Si può riempire uno stadio fino al 15% della capienza totale, ma comunque con una limitazione numerica. 1000 persone all'aperto, 200 al chiuso. Saranno costretti quindi a rivedere i numeri alcuni sport che si giocano nei palazzetti, come il basket, che avevano avuto un via libera fino a 1000 spettatori. Adesso bisognerà solo capire come la FIGC e le varie leghe per il calcio recepiranno questa normativa. Il governo precisa che per regioni e province autonome la regola può essere diversa, purché venga concordata con il Ministero della Salute. Cambia la durata della quarantena da 14 a 10 giorni. Un ritorno al passato con la riapertura parziale degli stadi che resta un sorriso in un autunno così triste.